Allora, 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 ho fatto una partita, ok? E è andato tutto bene, ok? Ehm, grazie a un programma, praticamente che avevo, cioè ho sempre avuto, ma ci ho pensato adesso Ho praticamente abbassato tutta la percentuale di uso di connessione del gioco dell'1% Quindi mi utilizza un po' di connessione, di scaricamento e probabilmente mi usa zero di caricamento Quindi vuol dire che non dovrei avere mai più problemi Ora, questa roba, essendo che l'ho fatta adesso e tra un po' nel prossimo aggiornamento Sono contento perché mi mettono, visto che adesso hanno aggiornato, se Dio vuole, i preordini delle varie Ehm, come si chiamano? Le... le varie cose, madonna Ehm, ok, sono... no, è che ho il cervello un po' fuso grazie a questa cosa Quindi, insomma, le varie... i vari preordini, le varie edizioni Ok, oh, ce l'ho fatta Le varie edizioni E quindi mi metterebbero più roba Che poi magari vi metto uno screen qua da qualche parte di quella roba E quindi, allora Sono fiducioso adesso Spero mi vada Quindi, eh, prendo questa roba Dovrei avere un grizzly Sì, ho un grizzly Ehm, non ho elmetti Mmm Allora sapete cosa? Vado di shotgun, ok? Va bene Comunque qui ho adesso tre HP Se Dio vuole, ce l'ho fatta Vediamo se questo riesco a metterlo qua Perfetto Almeno qui c'è un po' di spazio E Direi che posso andare Con... Ehm Senza questo Perché mi metto esattamente Ehm Questi colpi vanno bene Perché tanto sono pieno da un'altra parte Eeeh Ehm Cos'altro? Il pompa Se no, ehm Si spara Qui deve avere tutti Ok, tutte le cose Andiamo con il grizzly Solo quel pompa Tanto deve averci un altro No, c'ho il saigan C'ho questo qua normale Quindi ok Se no ancora meglio Si potrebbe andare con le pistole Ma... No, 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 no Si va così Ok Allora Poi se Dio vuole Lo scaval hanno messo ogni mezz'ora Quindi buono Se Andiamo Ehm Potremmo andare shoreline Ehm Andiamo shoreline Visto che qui ho più Di solito ho più problemi di desync Se non abbiamo Problemi di desync Su shoreline Credo che mi spara Una sega Una sega Da solo Io mi sparo Una sega Da solo Ok Allora Siamo dentro Ora vi voglio far vedere Una cosa Visto che Intanto ho fixato Insomma Ho trovato un modo Per registrarvelo In 1080 Senza le bande nere E Ho messo proprio lo schermo In 1920x1080 Perché pensavo che mi desse Una risoluzione sballata Invece me lo da Con le bande nere ai lati Per me Quindi è perfetto Insomma per registrare E 1080 Ora Quindi lo sto facendo In finestre al gioco Perché se no il gioco A full screen me lo mette Proprio la mia risoluzione Normale Ora Questo è il programma Che vi dicevo Come vedete Qua ora mi sto utilizzando Ma se io metto Zero Non mi utilizza più Nulla Qua mi utilizza Sempre uguale a prima Però Ok Visto mi utilizza Zero zero Spero non mi crashi Tutto Ok 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 Ho fatto un po' Un fail Comunque Vedete che ora Comunque sale Perché Scusa Ora Se io faccio sempre Sto test Vediamo se Tipo no Che mi ci metto Insomma La giusta cosa Ora Noi giochiamo Ogni tanto Ve lo faccio Ricontrollare Anche a voi Perché È meglio No Almeno vedete Anche voi Cioè ogni tanto Lo coso Vedete ora E 80 Mi utilizza Quello che mi utilizza Sempre E Insomma Sono un po' Insomma Non sono contento Infatti Sta iniziando A laggare E infatti Proprio su Shoreline Su Factory Non mi ha dato Nemmeno un problema Ora vabbè Noi vediamo Noi giochiamo E Se muoio Perché Desinco Pazienza Poi lo riprovo Pur di nuovo Su Factory Così bene o male Se su Factory Non mi da nessun problema Vi porto un video Su Factory Magari anche su custom Vediamo se magari Non da problemi Su custom Forse perché Shoreline è quella nuova E quindi è sempre Piena di persone Infatti fatemi Ricontrollare E si Mi sto utilizzando La stessa roba E da un po' Un problema Però Noi andiamo avanti Noi facciamo Il nostro Vediamo un po' Che succede Perché prima In Questo qui Mi dava Uguale E mentre qua Dava zero Quando ero su Factory Infatti Non mi dava Nessun problema Di desync Ora Qui Ok Ci metto Un pochettino Ma proprio Un pelo E nulla Ogni tanto Comunque Lo riapro Sempre Perché voglio Controllarlo Se magari Poi riscende Risale Questo è L'ospedale C'è chi scende C'è chi sale Infatti Vediamo Ok Quindi questo video Sarà un po' Un po' Un esperimento Perché ora si gioca Qui aspettiamo Di trovare qualcuno Tipo lui È morto subito E questo mi piace Ok Lì mi sto usando Però Messo un percento Però mi piace Perché è morto subito Cazzo Subito Da quanto Non vedevo la gente Morire subito Mi sto per commuovere Non sto scherzando Vediamo qua Cosa si trova Ok Ora ci sta mettendo Tanto a prendermi Questo E qui È uguale a prima E sta salendo A 90 E non va bene Quando sale A 90 Dammi Sta benda Dai Mettiamola su 4 Ok Ora Oh Ciao Ha qualcosa Lui Una fistolina Ci fa sempre comodo Una mara cava Anche se è macaro Ma mara cava È più bellino PM Come volete Ok Non ho Tantissimi problemi La sta spostando Mol Piuttosto bene Cioè non molto Piuttosto bene La roba Ma Rispetto alle altre volte Ora qui Uh Il painkiller Molto utile Ancora Ma basta Ok Ora sta iniziando Un pochettino Anche se Sta Ancora Non è meno Di prima Però Ah 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 Ho il fucile Sbagliata Yeee Ricarica Ricarica Perché non mi ricarichi Ok È successo qualcosa E non mi ricarica L'arma Ok Vediamo un po' La roba come me la sposta Ok Me la sposta bene Quindi Non ci sono problemi Vediamo se Un po' Con la PM Da lontano Fa qualcosina Allora dimmi che Due il fucile è giusto Ok Due è il fucile è giusto Oddio Avevo finito i colpi Però è morto Ok Non ha desincato Forse sta cosa Anche se lì Mi utilizza Un pochettino Lago Però Proprio Non de cinqua Bestia Madonna Se sarà Se è per sempre Così L'ho detto E mi sparo Una sega Da solo Ah Sono contento Molto contento Qui vabbè Ascolta Allora So che qui Hai colpi Di fucile Quindi Fammi vedere Nel tuo Gianettino Che cosa hai E se dopo Questa Sessione Su factory Mi va bene Io Cioè Riporto Due video A settimana Su escape From Tarkov Perché No ho provato A fare altri video Diciamo forse Quello che potrebbe andare meglio È fortnite Rispetto agli altri Però Non è che ci gioco Sempre Allora Qui colpi Qui la connessione È Sì più o meno Iguale a prima Forse un po' più bassa Mi sto utilizzando Però Se continua così Io sono più che contento Ora Qui lo zainetto Non è pieno Allora Per la strada È un po' Un brutto Posto Allora Io so che c'è Una casa Spero sia questa E non mi ricordo Insomma Se lo è bene Altrimenti Pazienza In cui c'è la cassaforte La cassaforte Uguale Armi forse Cioè Più non cassaforte Proprio L'armadietto Delle armi Ed era una casa A due piani Questa è una casa A due piani Così sembra Apriamo Salve Amici Poi si richiude Allora Si sparano Anche con un'arma Abbastanza Interessante Potrebbe essere Hppino Barra H Vediamo se Potrei essere Nella casa giusta Se riesco A salire Allora No Questo non Che cazzo Di rumore Era Però qui c'è La cassaforte Non è Il colto Delle armi Ma è la cassaforte 790 rubri Fammi vedere Esaminare Se me lo esamina Subito Siamo a posto Ok Se viene una cosa Allora Qui me lo utilizza Poco Ora me ne sto utilizzando Poco Va bene Sono contento Ok Madonna raga Se ritorna Escape Escape from Tarkov Sul canale Sono contento Uno perché Vabbè Questo canale è nato Su Escape from Tarkov A voi piace E diciamo Sono seguito Più che altro Per quello Quindi insomma Ci guadagniamo Tutti No Quante Ruble Ah e poi Mi danno 3000 dollari Quando c'è il prossimo Aggiornamento Con le armi Danno una No è vero Insomma ve l'ho fatto Vedere quando ve l'ho detto Però insomma Eh Ve lo ricordo Quindi Poi usciranno i video Con armi Mai viste Sul mio canale Nemmeno l'M4 Che prima dell'aggiornamento Quello della La pre patch No la patch Della pre beta E Io cos'hai C'avevo l'M4 Ma ho detto Aspettiamo E niente Poi è arrivato L'aggiornamento Ed era un aggiornamento Con il wipe E niente Quindi Non so Ma ho fatto Ho preso Quell'M4 E non l'ho mai utilizzato E proprio Il giorno In cui ho detto Dai Andiamo a utilizzarlo Così ci fa un video Niente C'era il wipe Allora Se anzi Se dura tanto Sto Sto cosa Questo ride Cioè vi lascio solo questo Non vado anche su factory Cioè sta già durando tanto Ad essere sinceri Non mi interessa Controllare cosa c'è Dentro le altre cose Sinceramente Voglio vedere Se riesco a trovare Qualcuno Da ammazzare Che poi Allora Morire Perché non riesco Ad ammazzare uno Mi sta bene Mi sta benissimo Morire Perché desinco Ovviamente no Quindi Speriamo Di morire Se moriamo Ma Perché insomma Finisco i colpi Non muore Perché non muore Non perché desinco Allora Io non so Proprio dove sto andando Forse sono nella zona giusta Per arrivare al mare Spero Ok Facciamo Tornare Su un po' Di stamina E Poi ogni volta Che magari Voglio portare un video Fa prima una sessione Così vedo Come va Faccio una sessione In scav Magari insomma Così se sopravvivo Porto a casa un po' Di cose Che posso portare Nel raid dopo Con quanto fiato L'ho detto E quindi nulla Ora sta andando bene Oddio Ah no Ok ho letto 00 Pensavo invece Volevo Allora Là sicuramente C'è qualcuno C'è sempre qualcuno Non può non esserci qualcuno Però Visto che sono un bimbo Un po' stronzo Voglio troppo vedere Qui la cassettina Militare Se ci fosse Qualcosa Sarei molto Contento Con quanto Brego il braccio Storto Ok sta laggando Ora posso dire Che stava un po' Lagghicchiando In quel momento Però Dammi questo Colpi Non mi interessano Il caricatore Da K Mi può interessare Il caricatore Da M4 Non mi interessa Tanto Eh si Le ruby Le metto qua Fanculo Eh Dammi Eh Anche i dollari Dai Questo che cos'è Facci vedere Facci sognare Ah Del saig Quello da 10 colpi Lo siamo No mettiamo i dollari Tanto poi Devo whippare Quindi Va bene così Però me l'ha spostato Piuttosto velocemente Quindi Dita incrociate Non riuscivo a deglutire Per dire Dita incrociate Allora Siamo Iniziamo ad avere Un po' di peso Si vede Dall'omino Che insomma Ce l'ha un po' più Non ce l'ha Al massimo La corsa La velocità E la base Ah ok Mi sarà bloccato Il tasto della mia Davvero Cioè io sono contento Se questo raid Va tutto bene Non c'è The sink Cioè Sono proprio Contentissimo Perché Si ve l'ho detto Perché posso poi riportare Ma proprio Perché per quello Che ce l'ho speso Perché chi lo sa Per chi lo sa O per chi non lo sa Insomma io ho speso Ho preso l'ultima versione Quindi un valore Di 150 euro Ok qua non c'è nessuno Vediamo se c'è qualcosa Qui dentro Sempre con quel braccio Storto Però ad aprire le cose Mi ci mette sempre Un po' di più eh Cioè Mi sta mettendo Abbastanza ora Però spostarle Ci mette poco Eh Pacchetto di cose Eh Pacchetto di patatine Che cosa sono Caramelle Allora Se qui non ci fosse Nessuno Bene Vediamo se Troviamo altre cose Medikit Robe Che qua ci dovrebbero essere L'ultima volta Trovai Il Un Grizzly Ora lo vedete Lo sta aprendo molto velocemente Me lo apre subito Quindi Eh Ok Nulla Ho un po' paura Ad entrare lì dentro Non entro Vado all'estrazione Perché lì ci sono sempre Degli scav E quindi nulla Si va laggiù in fondo E ci si vede quando arrivo Ah scusa È stanco il mio Ok Eh De sink De sink De sink De sink De sink Però l'ho ucciso Visto De sink Ma poco Cioè Poco Poco si fa per dire Insomma L'ho ucciso Però Discardo Quello Mi prendo Questo Assolutamente Discardo Quello Però vedete Ora quando prendo Gli oggetti Va bene Eh Beh beh Questi si fanno così Anzi Scusami eh Questo si fa Così Ok Ricarico Questo Speriamo di non Desincare Cioè come è successo Ora perché un pochettino Insomma Ha desincato E niente Andiamo Mi metto Ah in singolo Metto full auto Non mi ricordo più Come si controlla Quanti colpi ho Però ne avevo 30 E dita incrociate Che ora vada tutto bene Fino alla fine E riesco a portarmi a casa Tutta questa roba Sarebbe bello eh Un sogno che si avvera Dopo Mesi e mesi Di problemi Di Internet Con questo gioco Allora Lì non c'è Nessuno Ok Qui c'è uno morto Allora Essendo che io Ho paura Di qualcuno Lì dentro Me ne vado Di qua Che va Già un po' Meglio Fammi vedere Se ci fosse Qualcuno Lì Sembra Di no Se arriviamo All'estrazione Lo vediamo anche Subito Da Da quanto ci mette Ad arrivare Il segnale Di estrazione Allora qua Questi vengono Da dietro Questi si sparano Tanto Quello è un corpo È un corpo E lo hanno Anche Luttato Bene Bene Allora Stiamo un po' Attenti Perché Qualcuno Si potrebbe Nascondere Qua Oh cazzo Ehi zio Ma L'ho cliccato Il tasto giusto Sì Anche due volte Ora sto Desincando Tanto Fammi vedere Eppure Ah ok Bene Ora me l'ho aperto Eh due volte Ok Dai Ah ora sto Ok Bene Quello è stato Detornato Ora il problemino Beh Sinceramente Butto via Questo Non mi interessa Prendo questo Prendo questa Non ha Elmetti Lui Sono due No è uno Anche questo Ce l'ha Due Ne ha Ok Anche questo Era un po' Piano di roba Facciamo così Mi prendo questa Perché è silenziale Ok Corriamo via L'estrazione Vediamo quanto ci mette A darmi il segnale D'estrazione Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sei secondi Nemmeno Nemmeno tanto male Dai Pensavo peggio Pensavo peggio Wow Wow E' andata bene E' andata bene E' andata molto Molto bene Però solo 3000 xp E' triste Fammi vedere Ho ucciso Tre scav Bene Sono Contento No guardate lì Attanto non vedevo Questa roba piena Oddio Va bene Sono contento Perfetto Quindi niente ragazzi Che dirvi E' andata bene Un istante è iniziata A laggare Però a sto punto Mi sa che vi porterò Sempre Factory Perché lì non dava Nessun problema Quindi niente ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate un bel like E anche lasciate un bel like Per il mega ritorno Che funziona ora E quindi nulla Noi ci vediamo nel prossimo video E alla prossima Ciao Ciao